E' un sopporto dagli inseriti, le calche si attacca, si attacca l'Ando Maris, ci può lasciare la clac, ci trova con l'Ando Maris che gli concede di andare di lì, ma tira la stacchetta all'esterno, fumante, la ruota anteriore di Maris, la clac va, la clac va, una caggia incredibile.